Centinaio, perché le regioni, allora, se le cose stanno come dice Mauri, se è un patto Stato-Regioni, perché protestate sulla sanità? Perché è un patto Stato-Alcune Regioni, perché nel cartello che avete fatto vedere prima, dove si parla di 7 miliardi di risparmio, quando si parla di risparmio vuol dire che si va a tagliare qualche cosa. Recuperare 7 miliardi vuol dire che si va a tagliare per avere dei soldi. L'italiano penso che non sia ancora un'opinione e di conseguenza nel momento in cui tagliano tutti questi soldi alla sanità la domanda è ma i servizi ai cittadini che cosa rimane? E questo è il problema che stanno portando avanti gli assessori delle regioni di alcune regioni del nord, non di tutte. E quindi nel momento in cui l'assessore alla sanità, che ho visto qualche giorno fa, della regione Veneto, espone ed esprime questa problematica, è una problematica di una, ed è espressa da parte dell'assessore alla sanità, di una delle regioni più virtuose di questa nazione. E che dice, io già sono virtuoso, io già ho fatto i tagli, io già sto dando dei servizi efficienti, mi chiedo il perché i tagli devono essere fatti in Veneto, anziché in altre regioni d'Italia dove si spreca. I tagli dovrebbero andare a farli in quelle regioni dove si spreca e non ci dicano che non lo sanno. Ci sono regioni d'Italia dove si spreca tanto, quindi dovete andare a tagliare lì e lasciare invariato dove invece c'è efficienza.